E intanto finisce 1-1 la partita d'andata delle semifinali di Europa League tra Juventus e Siviglia. Sono successe un pochettino di cose strane ma noi ce lo aspettavamo. Il VAR su alcune cose non ha ritenuto di dover intervenire ma noi queste cose ce lo aspettavamo. Nonostante ciò la Juventus perdeva 1-0 fino all'ultimo secondo della partita, cioè il 96esimo. Una cosa molto, molto strana, l'arbitro ha fatto battere il calcio d'angolo al 96esimo a partita scaduta. Sì che si era perso del tempo perché comunque i giocatori del Siviglia facevano falli a mai finire, ammuniti pochissimi. Ma non mi aspettavo che l'arbitro avrebbe fatto recuperare anche il calcio d'angolo a partita finita. Ed è lì che il gatti la mette dentro. Grazie a un'assist, non so se è volontario o un volontario, comunque è un grandissimo passaggio di testa di Pogba, la Juventus riesce a scamparla per questa volta. Perché nella partita di ritorno in casa del Siviglia ci aspettiamo molto peggio. Sia come gioco espresso dalla Juventus, sia come arbitraggio in campo dopo quello che abbiamo visto questa sera. Una Juventus che a tratte ha giocato anche abbastanza bene, oggi ce li avevamo in campo tutti, quindi non c'era nulla. Non c'erano alibi, non c'era nulla dove potessi attaccare. Purtroppo la squadra è questa qui. Un po' di sfortuna, un po' di poca qualità, niente cazzino. E questo porta la Juventus a essere sotto di 1-0 e ad andare alla ricerca di recupero della partita. Per fortuna ce l'abbiamo fatto, questa volta abbiamo scampato il pericolo di fare una settimana a sentir dire tutti la Juventus fuori, la Juventus fuori, la Juventus fuori dell'Europa League. Cosa che molto probabilmente accadrà, perché gli episodi vediamo che alla Juventus girano sempre, sempre, sempre storto. Ma è una volta che il VAR si renda conto che ci sia qualcosa per cui debba intervenire a favore della Juventus. Nelle coppe sia in Champions League che in Europa League abbiamo visto fino ad ora. Ogni volta che è intervenuto il VAR è intervenuto sempre e soltanto per episodi che sfavoriscono la Juventus. Quindi non ci aspettiamo niente di più e niente di meno che quello che è successo. Ed è per questo che oggi nel video dissi che la Juventus deve giocarsi la partita fino alla morte. Deve giocarla come se fosse una finale perché andare a Sevilla a ribaltare un 1-0 sarebbe stato veramente, veramente complicato. Già anche andare a Sevilla con l'1-1 è molto complicato perché abbiamo visto già stasera a che cosa andiamo incontro. Nonostante c'è la Juventus, piglia questo pareggio, lo porta a casa, rimandiamo tutto alla prossima settimana e vediamo che cosa succederà. Ditemelo voi qua sotto nei commenti. Che cosa vi aspettate nella partita della prossima settimana e soprattutto? Ceferin riuscirà a impacchettare questa sconfitta per la Juventus come hanno provato a fare oggi oppure non ce la farà? Perché comunque la Juventus un po' di culo ce l'ha perché segnare all'ultimo secondo di una partita dove non hai fatto molto, diciamo la verità, ci vuole culo. Ci vuole culo e noi ce l'abbiamo avuto e abbiamo pareggiato la partita. Tra l'altro Gatti che toglie un gol a Mille perché era lì, ma se lo merita perché anche Gatti si trovava in quella posizione. La Juventus che ormai attaccava un 11 perché è un risultato che non può venire fuori allo Juventus Stadium, all'Aliasidio, a Torino. Non può venire fuori un 1-0 per il Sevilla, nonostante che il Sevilla sia la squadra dell'Europa League, ma la Juventus con i giocatori che aveva in campo a disposizione questa sera ci aspettavamo qualcosa in più. Diciamo che ci aspettavamo qualcosa in più. Vediamo se questo qualcosa lo potremo vedere magari la settimana prossima. Noi ci speriamo. Questa partita è andata così. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Rimane la mano in bocca però è bella la sensazione di vedere la Juventus reagire. È bello vedere la Juventus giocare fino alla fine e anche metterci qualcosa in più quando i risultati non vengono fuori. Peccato che non ce lo mettono dall'inizio della partita qualcosa in più perché verrebbe fuori una prestazione sicuramente migliore. Il video finisce qui. Io vi saluto. Fatemi sapere nei commenti, condividete, mettete un bel like. Buonanotte a tutti. Ciao a io.